il 2020. Sarebbe impresa vana provare a ricordare in un minuto anche solo una parte dei tantissimi successi che hanno costellato la carriera di questo compositore, nato 92 anni fa e morto l'estate scorsa. Dai brani di musica popolare alle colonne sonore di oltre 500 tra film e serie tv, ognuno ha una personale hit parade della musica di Ennio Morricone, ma proprio pensando al cinema che lo ha consacrato come una delle sue stelle più luminose, va ricordato che qui nasce l'universalità della musica di Morricone. Sappiamo quanto le colonne sonore siano importanti nel decretare l'affermazione di un film, ma la musica di Morricone fa un passo in più, permette a ognuno di noi di vivere delle emozioni talmente intense da farci sentire parte della storia che scorre sullo schermo. Non importa che racconti di un cacciatore d'Italia del Wyoming, di un rapinatore messicano o di un missionario, tutti ci sentiamo in qualche modo coinvolti ed è questo il successo più bello.